In difesa dei cittadini, in difesa della sanità pubblica, per la tutela dei pazienti, per cure efficienti e per eliminare l'etichetta malasanità. Questi principali motivi che hanno spinto la CGL indira una conferenza attraverso cui sono state cercate soluzioni per migliorare una situazione che di per sé presenta falle e incertezze. L'incontro è stato denominato emergenza pronto soccorso. Nello specifico si è parlato della mala gestione nei casi di emergenza urgenza e dell'assenza di confronto con la regione Campania. Bisogna garantire il diritto alla vita, a dirlo il segretario generale della funzione pubblica della CGL Napoli e Campania, Alfredo Garzi. Noi siamo in una condizione nella quale oggi non si riescono più a garantire i turni di servizio, perché il personale è sempre di meno, si va via appena è possibile da questi servizi perché le condizioni di lavoro non sono adeguate, c'è un problema di rapporto con i reparti rispetto al ricovero dei pazienti che ci sono dentro i parenti di soccorso. Insomma, poter organizzare diversamente il lavoro dell'ospedale già potrebbe dare qualche risultato, ma ovviamente poi bisogna investire nel personale, bisogna smetterla con questo numero chiuso e con un numero di specializzazioni così basse che non consente di avere poi le professionalità adeguate per poter affrontare il lavoro dentro il pronto soccorso, bisogna migliorare anche le condizioni di lavoro degli operatori, bisogna rilanciare, anzi in questa regione bisogna finalmente avere dei servizi territoriali che consentano alle persone di non dover accedere sempre al pronto soccorso.